1, 2, 4, 3, 2, 1, partita! 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Quanto ero la voce? 5 3 7 8 9 10 12 13 14 13 15 15 17 18 19 20 10 21 21 22 23 22 24 25 26 rilassati Ale rilassati 27 28 28 29 29 30 30 30 32 33 30 30 30 34 35 35 38 36 rilassati rilassati di più più forte di gambe spingi bene non correre non avere fretta forza ragazzi 4 minuti di gambe 51 52 53 dai sono firmando Alessia ti devo lasciare 54 55 56 8 56 vai rilassati spingi più con le gambe siamo a 5 minuti di gara dai vai non avere fretta rilassati 60 uno e alla caprile 64 2 spingi 65 66 incazza incazza di pia 70 vai vai 6 minuti 3 vai 33 respira con la bocca 70 spingi spingi forte con le gambe così vai 69 non avere fretta non avere fretta vai 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 incastra bene dai 3 minuti non sono niente stabilizza su stabilizza su ok 4 vai 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 non avere fretta Ale rilassati vai 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 spingi bene con le gambe vai 2 minuti dai 2 minuti dai 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 vai spingi bene 9 dai 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 un minuto e mezzo un minuto e mezzo un minuto e mezzo dai 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 vai spingi bene con le gambe 2 vai 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 tieni un po' più avanti 3 vai vai vieni un po' più avanti vai vai un minuto e mezzo un minuto e mezzo spingi vai 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 sulle punte sulle punte vai 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 Quindici secondi, vai, 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 una, vai un'altra, 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 vai, 122.